I mezzi spargisale hanno lavorato a tappeto sul territorio teramano, più che probabile domani la riapertura delle scuole nel comune di Teramo con tanto di trasporto scolastico riattivato. Situazione dunque tranquilla in città e nei dintorni dove hanno operato incessantemente 23 mezzi spazzaneve. I vigili del fuoco sono stati chiamati per alcuni mezzi bloccati come un autobus che è uscito fuori strada nella frazione di Cavuccio e due autovetture nei pressi di Campli. Anche a Civitella tutto è filato liscio nonostante i 30 cm di neve, viabilità agibile grazie alle precauzioni prese nei giorni precedenti. Anche le lezioni all'Università di Teramo riprenderanno senza intoppi. Le strade per salire a Colleparco sono infatti agibili e ben pulite, così come il Tribunale di Teramo che tornerà alla normalità dopo la chiusura odierna decisa con un provvedimento dal Presidente Alessandro Iacoboni. E se per la viabilità tutto ha funzionato a dovere, la neve e il ghiaccio hanno invece creato disagi per le normali procedure di raccolta domiciliari dei rifiuti. L'umido è rimasto in strada nel centro storico di Teramo, nonostante la TEAM avesse avvertito gli utenti, forse in maniera sommaria, del mancato ritiro porta a porta. Fino a giovedì dunque spazzatura in casa.